E tu, cara? Che cosa ne pensi? Sara, ma che acconciatura hai scelto? Il gatto ti ha mangiato la lingua, Sara? Si può sapere perché non mangi niente? Non ti torturare le mani, non ti mangiare le ucchie, non accavallare le gambe, Sara, non appoggiare i gomiti sul tavolo. Respira, bambina, guarda avanti, rilassa il corpo, respira, sorrida. Cominciamo? Come le pare? Come è andata la settimana? Normale. Capisco, e a scuola invece con i tuoi compagni? Normale. Fantastica, e adesso come stai? Male. Splendido, ho sentito bene. Ho detto male. Infatti ho sentito bene, hai detto male. Splendido, splendido, cara. Facciamo progressi, facciamo progressi. Io non sono invisibile, io non sono cenere. hermosi, facciamo progressi, facciamo relaxi. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti